E' arrivata al Capolinea, dopo quasi 5 anni di indagini, la vicenda che ha visto protagonista l'ex direttore della filiale Eslia di Brindisi, Giuseppe Caponetto. E' stato infatti individuato e denunciato all'autorità giudiziaria l'autore delle minacce telefoniche che Caponetto riceveva sull'utenza mobile aziendale. L'attività investigativa della Digos è scaturita a seguito di una dettagliata querela che l'incaricato del Servizio di Igiene Ambientale del Comune di Brindisi presentò il 13 febbraio 2006. In particolare, le telefonate dell'anonimo interlocutore dal chiaro accento brindisino avevano un contenuto altamente minatorio, tale da far pensare agli investigatori che fosse legata alla nomina di Giuseppe Caponetto a direttore della filiale Eslia, avvenuta nel 2005. A causa delle formali dimissioni presentate da Piero Gioia per motivi di incompatibilità personali e di gestione. Gli agenti della Digos sono riusciti a risalire a seguito della consultazione dei tabulati telefonici all'autore della telefonata durata circa 30 secondi e proveniente da un'utenza Wind. La persona in questione, peraltro sconosciuta a Giuseppe Caponetto, è risultata legata da vincoli di parentela con alcuni dipendenti che all'interno dell'azienda ricoprivano incarichi di rilievo. In sede di interrogatorio, il soggetto ha ammesso le colpe, aggiungendo però di aver effettuato un semplice scherzo così come richiesto lì da un amico. Il provvedimento di denuncia è stato emesso dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, Luca Buccheri. Grazie a tutti.